Claudio Bertolotto nello showroom Bertolotto, quest'anno una nuova collaborazione con un artista brasiliano, come è avvenuto l'incontro? Tanti anni fa in Brasile vidi le sue opere, la sua galleria e sognai che un giorno avremmo potuto fare delle porte opera d'arte e ci siamo riusciti. Quindi com'è questa nuova collezione che presentate? E' una collezione ovviamente dedicata al colore, alle forme, alla natura e ai love di Britto. E cosa avete in mente per il futuro? Nuove collaborazioni, proseguite con quest'artista brasiliano? Beh intanto adesso viviamo questo momento che è molto positivo, questa collezione ci sta sicuramente portando sempre di più verso, oltre il design, verso l'arte appunto e per noi le porte sono opere d'arte, quindi sempre di più queste collaborazioni fanno crescere il nostro marchio.